Oggi è una sorta di festa pre partenza con tutti gli italiani della Dakar 2024 ma anche delle Dakar passate quindi una grande festa per celebrare questo mito e poi settimana prossima imbarcare le nostre belle e le nostre moto a Barcellona Ci siamo quasi Siamo qua Con cosa vai quest'anno? La signora La signora stavolta tutta sbrillata Vestita elegante, serata di gala, tutti i giorni festa, più dell'anno scorso Questo è l'auspicio, poi quello che viene, viene Quello giusto, che serve per arrivare prima del tramonto 3, 2, 1 2, 1.8 oh Don't wanna overthink it, baby iscriviti al canale 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 iscriviti al canale